Un'esplosione si è verificata durante la notte a Zapponeta i danni della filiare dell'ufficio postale in via Esonzo ad agire secondo quanto viene riferito quattro persone che dopo aver posizionato una marmotta nella fessura del postamat hanno tentato di portar via il denaro contenuto nello sportello automatico. Il colpo stando a quanto accertato non sarebbe riuscito ma l'esplosione è stata avvertita indistintamente in tutto il paese. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero fornire elementi ulteriori alle indagini dei carabinieri che stanno verificando quanto accaduto.